...volevo dire qualcosa... ...sì, la voce... ...sì, la voce... ...sì, la voce... ...suna trossa di quanto è avvenuto durante questi anni, o per meglio dire, non mi ha avvenuto... ...ci sono creati dei voti di iniziative e di discussione... ...che richiamano l'attenzione di noi giovani che del territorio abbiamo visto poco e chiediamo tutto da poco... ...il concetto di riasporrazione degli appartenenti... ...il finanzo di politiche giovanili... ...dove essere una cosa primaria... ...politiche giovanili che devono essere adatte a favorire una crescita culturale e sociale... ...a stimolare la delegazione... ...ma anche a incoraggiare l'insegno alla partecipazione attiva alla vita comunale... ...come reali per la vita... ...gli obiettivi di questa riasporrazione si fondano su... ...gli obiettivi di questa riasporrazione si fondano su iniziative e cambiamenti... ...che favorissano la vita associativa che oltre ai loro riferimenti come la famiglia, la scuola e il lavoro... ...vevano essere vissuti nel campo della cultura, della creazione, dell'espressione musicale... ...del teatro, dell'azione sociale, dello sport... ...invitando alla cittadinanza strutture che da tempo vivono nello stato di abbandono e degrado... ...come lo sparo comunale... ...e vengono oppure strutture che da tempo vengono gestite privati... ...e le quali, però, di molti che non potrebbero essere vissuti... ...edituire alla cittadinanza una vita comunale che non venga visto come uno spazio isolato e esplosicente... ...oppure abbandonato a tutti... ...puntare sulla partecipazione giovanile alla vita del territorio è una cosa primaria... ...soprattutto perché l'aggregazione, lo spazio educativo conosce quel tipo di crescita pedagogica... ...si allontana fortemente dal concetto di criminalità... ...danno spazio ad una coscienza antica mona forte e vincitiva. Grazie.